Buongiorno, ci scrive il signor Romano e dice, ho visto in tv la pubblicità di un rimedio per sbiancare i denti, non è che mi fido, come sono i prodotti che si trovano in farmacia efficaci? Quante volte si possono usare in un anno? Ci sono due strade per sbiancare i denti, passano tutte e due da una corretta igiene orale. Una è quella dello sbiancamento professionale che si fa di norma dopo aver fatto l'ablazione del tartaro e l'altra è appunto lo sbiancamento domiciliare con i prodotti che si acquistano in farmacia o in parafarmacia. Però questi prodotti per precauzione hanno una quantità di sostanza attiva decisamente inferiore a quella presente nei trattamenti professionali che vengono fatti dal dentista, per cui sono nettamente meno efficaci e richiedono quindi un'applicazione per tempi molto più lunghi. Possono essere utilizzati per mantenere lo sbiancamento che magari è stato effettuato dal dentista. Così come per ottenere un prolungamento del colore bianco dei denti possono essere utilizzati i dentifrici cosiddetti sbiancanti. Tenga presente che quando si fuma in realtà lo sbiancamento non serve a niente perché i denti diventano rapidamente gialli e anche alcuni alimenti coloranti come il pomodoro, gli spinaci, il caffè e altri possono determinare un rapido iscurimento dei denti stessi. Se intende informarsi di più lo può fare attraverso il nostro sito o farci delle domande utilizzando Facebook. Le risponderemo certamente personalmente. arrivederci e grazie.